Allora, vediamo, vediamo se c'è qualche stato carino, vediamo, vediamo, questo niente, questo niente, questo no, questo no, ok. In ogni epoca i cristiani hanno tentato di giungere all'essenza, al nocciolo del cristianesimo, ebbene, il Vangelo stesso ce lo trasmette con il Padre nostro, e in una preghiera e non in una dottrina o in un insieme di donne, dogmi, che è riassunto il messaggio di Gesù. La ciccia, il cuore non dimentica, la mente potrà anche allontanare un pensiero, ma il cuore per quel pensiero avrà sempre un sussunto, un battito accelerato. Qualsiasi fiore tu sia, non smettere mai di sbocciare ogni giorno. Appartenere a qualcuno significa entrare con la propria idea, nell'idea di lui o di lei, e farne un sospiro di felicità. Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia, ma vildo si non fa, perché quel bivico, la sensazione si chiama vita. Il filosofo, quanta forza ha chi rimane gentile, nonostante tutto. Siamo tutti destinati a diventare un ricordo, e ce ne dimentichiamo ogni giorno. Io gli ho detto a Giuseppe che dovevamo fare la comunione, dovevamo fare due feste. Una la faceva con la mamma e una con me. Allora, pensavo, dovesse fare due volte la comunione in chiesa. Prima mi disse, no, 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 non esiste proprio, non esiste proprio, dobbiamo fare una sola comunione. Poi gli spiegai, vedi che la comunione in chiesa, comunque, staremo tutti insieme. Poi per la festa, ognuno si fa la festa proprio. Ho detto, tu sei fortunato perché ne avrai due di festa. Oggi sullo Stato ha scritto, che pizza, basta, la comunione si fa tutto insieme. Ma immagina la miseria, ma immagina. Come dobbiamo fare, come dobbiamo fare. La fantasia non è età, e i sogni sono per sempre. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Pensa, credi, sogna e usa. Non fermiamo la fantasia con la fantasia. Si può fare il più spettacoloso viaggio che sia consentito ad un essere umano. La risata è senza tempo. La fantasia non ha età, e i sogni sono per sempre. Tutti i sogni possono diventare realtà, se solo abbiamo il coraggio di inseguirli. Sogna la tua vita a colori e il segreto della felicità. L'uomo che ci ha fatto volare nella fantasia. Walt Disney Lasciate che i bambini credano Babbo Natale. Voi credete nei frullati di immagranti e nessuno vi rovina la magia. Per me, mangiare leggero significa stare a tavolo con pantaloncini e infradito. Vabbè. Oggi parecchi messaggi sui sogni, ma chissà come mai. Cioè, non riesco proprio a... Assurdo. Cioè, stamattina stavamo parlando di questo. Dei sogni che tu mi hai detto è bello sognare. Perché alla fine ti rimane... Ti rimane quello. Perché comunque è sempre bello sognare per poter sperare. Ecco, come vedi, stamattina mi sono arrivati gli stati dei messaggi sui sogni. No, vabbè, cuore mio. È pazzesco. Che ti dovi. Babbo. No, ogni tanto mi grato. Vabbè, cuore mio. Senti, niente. Tutto a posto. Tranquillo. Fammi sapere un po' a te come va. Stamattina mi hai detto che andava meglio. Spero che adesso vada ancora meglio di stamattina. Spero che tu abbia mangiato qualcosa. Un brotino, una pastina. Qualsiasi cosa. L'importante è che ingerisci. Cerca di bere. Che? E niente. Non ti preoccupare. Passerà qualche giorno di tempo. Va bene? Eh. Io vado a prendere a Peppino. Che sono già in ritardissimo. E ci aggiorniamo a dopo. Fate un bel sonnellino. Visto che stanotte non è che sia stata una nottata proprio pacifica, insomma. Due volte cambiato. Con i dinner. O bevare. Quindi oggi cerca un po' di riposarti così riprendi un po' di forza. Va bene? So che stamattina lì c'è il sole e qua c'è il freddo, il giro, il giro. Però a quanto pare il fine settimana sarà più bello su che qua. Qua porta neve, su invece porta sole. Quindi se c'è, goditi tutto quel sole che c'è perché te lo meriti, come è mio. Eh. Va bene? Beh, fratellino mio. Ci sentiamo dopo. Mi raccomando. Non demordiamo. Andiamo avanti sempre con le nostre forze. Anzi adesso ancora di più come le nostre forze. Come è sempre stato, insomma. Non è cambiato nulla. E nemmai nulla cambierà. Va bene, cuore mio? Noi sappiamo benissimo che insieme siamo una forza pazzesca. Ed insieme usciremo da questa situazione. Te lo garantisco, cuore mio, che ce la farei. Ok? Beh, mi raccomando, cuore mio. Un bacio. Un cuore. Un abbraccio forte, forte, forte. Proprio a stritolarti, a stritolarti. Eh. Dai, che tanto prenderei più viso. Quando arrivi a 70 ricordati di bella sigaretta. Ciao, cuore mio.